è un roadshow che in realtà è iniziato a novembre a shanghai per poi andare in europa a parigi londra berlino copenhagen poi miami e poi dallas e adesso new york è un grande sforzo che con tutto il team del salone in primis il nostro presidente maria poro cerchiamo di fare per andare a raccontare come sarà il salone del 2024 grande entusiasmo grande idee portiamo novità portiamo soprattutto vogliamo creare la curiosità a tutti i nostri possibili visitatori di venire a milano e di fare come ogni anno un'esperienza incredibile al salone mobile a dallas sicuramente abbiamo avuto degli incontri importanti sia con la stampa locale ma soprattutto con architetti e designer dell'associazione degli architetti americana stessa cosa facciamo qui a new york sicuramente new york per quanto riguarda tutta la parte stampa è sicuramente un audience più numerosa e poi siamo qui invece per raccontare sempre architetti designer e altri stakeholder che potranno venire a visitare il salone tutte le novità di quello che facciamo